Io mi auguro ovviamente che questa abitudine nazionale di aprire polemiche nei confronti del Sud prima o poi cessi. La verità è che siamo ancora abituati a fare polemiche per forza d'inerzia. C'è gente in Italia che ha l'abitudine di guardare al Sud solo per dare lezioni al Sud. Bisognerà che ci si convinca anche a livello nazionale che qualche volta le lezioni bisogna apprenderle dal Sud. Qualcuno dovrà imparare senza aspettare che ce lo dicano i giornali degli Stati Uniti d'America che in qualche realtà del Sud ci sono delle eccellenze mondiali come capita al Cotugno a Napoli che è il primo ospedale al mondo per efficienza operativa nei confronti del coronavirus. Bisogna fissare la data per le elezioni. Come sapete questa data è stata prorogata dal Governo nazionale data la situazione di crisi. Io credo che sia ragionevole arrivare a fine maggio e decidere sempre d'intesa con il Ministero della Salute. Se l'evoluzione è positiva io credo che tenendo conto di tutto la data più utile sia fine luglio, l'ultima settimana di luglio. Se ovviamente non ci sono le condizioni di tranquillità dal punto di vista epidemiologico è chiaro che si va in autunno ma a questo punto io ho la sensazione che non si potrà votare in autunno. Noi saltiamo un anno e si va alla prossima primavera. Questo è l'ambito di valutazioni che bisogna fare. Abbiamo superato in pratica le zone rosse che abbiamo dovuto aprire Vallo di Diano, abbiamo risolto credo il problema. Ariano Irpino, dopo qualche difficoltà iniziale il problema è stato gestito anche con un nostro aiuto regionale in maniera positiva, seria, corretta. Qualche altro comune esce o è uscito a breve, da poco, dalla zona rossa. Credo che abbiamo governato il problema con grande rigore e con grande efficacia. Ho detto qualche giorno fa, noi non perderemo un minuto di tempo se la situazione sarà tranquilla. Se la situazione non sarà tranquilla non ascolteremo nessuna pressione. Faremo quello che sarà necessario per tutelare la vita dei nostri familiari. Punto. Avendo da dieci giorni questa situazione tutto sommato stabilizzata, dei nuovi contagi, credo che possiamo consentirci di prendere decisioni di maggiore flessibilità e di apertura nei confronti di prime riprese di attività economiche. Non riprese piene, ma primi passi in avanti significativi nel rilancio dell'attività economica. chiarisco che il rigore nei comportamenti dovremo mantenerlo, il distanziamento sociale dovremo mantenerlo. Sarà obbligatorio, dopo il primo maggio, indossare le mascherine. Cioè voglio chiarire che non è che torniamo a come eravamo tre mesi fa. Lo dico perché qualcuno mi ha mandato qualche lettera, ma con queste decisioni noi non è che possiamo riprendere la movita. La mia risposta è semplice. Ma tu sei scemo o sei buono? Cioè riprendiamo la movita. Ma 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 ma. C'è gente che si è bevuto il cervello e che non ha ancora capito fino in fondo che noi riprendiamo in un contesto di prudenza e di, come dire, tutela rispetto ai pericoli di ripresa di contagio. Stiamo cercando di venire incontro alle esigenze di tutti mantenendo la linea della Campania, che è una linea che è stata un modello nazionale. Io mi ricordo che qualche anno fa c'era un ministro, si chiamava Federica Guidi, che è stato costretto alle dimissioni perché è stata stuprata dal sistema della comunicazione in Italia. Una donna di valore, una persona per bene, è stata violentata nella sua vita privata. Hanno riportato sui giornali intercettazioni telefoniche, hanno calpestato la dignità di una persona e di una famiglia nell'indifferenza generale. Poi, per dare le pensioni a mille euro, dobbiamo la privacy. Lo ripeto e lo dico a quello che voleva già partire con la Movida. Senso di responsabilità. Perché il rischio che è dietro l'angolo è quello di far riaccendere i focolai. E questa sì, sarebbe una tragedia. Perché altri due mesi di quarantena l'Italia non li può reggere. E non li possono reggere gli esseri umani. Ma dipende da noi. Io intanto voglio ringraziare di cuore i cittadini campani. Al di là di qualche settore marginale. I cittadini della Campania hanno dato una prova straordinaria di correttezza, di senso di responsabilità, di rigore, di rispetto delle regole. Ma mica era facile rispettare così rigorosamente le regole come tutto sommato è accaduto in Campania. E dunque io vi ringrazio di cuore. Noi abbiamo preso, credo, decisioni importanti, anche difficili. Ma senza il vostro contributo non saremmo riusciti ad evitare, come è avvenuto, una diffusione drammatica di epidemia nella regione Campania. Manteniamo il massimo di prudenza. Per alcuni mesi dovremo convivere. Parliamoci chiaro. Finché non avremo il vaccino, e il vaccino lo avremo a primavera prossima. Non ci illudiamo di averlo prima. Io mi auguro, ovviamente, ma mi pare molto difficile. Fino a quel momento dovremo avere il massimo di prudenza e indossare le mascherine, avere il distanziamento sociale. Se sarà così vedrete che usciremo fuori davvero in maniera forte e definitiva da questa tragedia. Io sono assolutamente convinto che l'Italia si riprende. Se fai conti con quella palude burocratica. La malattia dell'Italia è quella. Siamo stati capaci di costruire in nome di un finto moralismo controllo qua, controllo la... Alla fine non si controlla niente. Si è messo in piedi un groviglio normativo-legislativo che serve soltanto a paralizzare l'Italia. Alla fine non si controlla niente. Grazie a tutti.